Ciao, sono qui sempre a San Pietroburgo e faccio un video adesso solo per farti vedere questo. Riesci a vedere cosa c'è alle mie spalle? È una nuvola molto particolare che si è formata in cielo e che mi ha portato un bellissimo messaggio che avevo piacere di condividere con te. Vedici tu quello che ti arriva e senti che effetto ti fa. Un abbraccio e a presto!